Mi tolgo la mascherina solo per poter parlare, ma questo oggi più che mai deve essere uno strumento che dobbiamo avere sempre con noi e indossare sempre. Faccio questo appello da Assessore alla Protezione Civile, quindi da chi in queste settimane è stato fianco a fianco con i volontari per fronteggiare l'emergenza. Un'emergenza che non è finita, entra in una fase diversa, quella di contatto con il virus. Affrontiamo questa fase con quella delle aperture, con la vitalità e la voglia di riprendere al meglio le nostre attività, ma teniamo alta l'attenzione e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e l'uso tassativo dei dispositivi di sicurezza, guanti e mascherine. Questa è una fase cruciale, dove da una parte inneschiamo la ripartenza, ma dall'altra diamo l'opportunità al virus di rimettersi in circolo. È un passaggio stretto, dove non solo i decreti e le ordinanze, ma soprattutto la nostra responsabilità sarà determinante per non ripiombare nel baratro, nella ripresa dei contagi, dei ricoveri, dei decessi e quindi delle restrizioni che devono ritornare. Questa quindi non è una fase in cui si rilassa e si ritorna a fare quello che si vuole. Anzi, dobbiamo essere più attenti e più bravi di prima. Paradossalmente a casa si stava più sicuri, si era meno a rischio contagio. Il difficile viene adesso, la sfida con il virus è ora in strada, ora in campo aperto. È qui che dobbiamo fare attenzione e dobbiamo bollare come negativi, come sbagliati, quei comportamenti superficiali di chi non rispetta le regole, non tiene la mascherina, come dei bulli che si credono immuni, ma che in realtà possono far male, prima ancora che loro stessi, a noi e alla nostra libertà. Non vogliamo tornare indietro e non dobbiamo tornare indietro. Dipende da noi.